ciao a tutti ragazzi eccomi come al solito riemerge dalla nebbia e come al solito sono qui a parlarvi di liquidi questo è un liquido un po particolare nel senso che non è ancora in distribuzione per l'italia ho fatto la cazzata perdonatemi la parola di ordinarlo dall'america e all'arrivo del pacco ha pagato lo scotto della mia diciamo scimmietta della mia felissima scimmia perché ovviamente sono stati applicati i dazzi doganali oneri tasse iva e quant'altro nella sostanza ragazzi ho pagato più di tasse oneri e quant'altro che liquido in sé però ero veramente veramente troppo curioso di provarlo volevo provare subito non ho avuto la pazienza di aspettare che venisse distribuito anche in italia ma non voglio tenervi più sulle spine perché sto parlando ragazzi della strawberry creme brulee della rip vapes finalmente rip vapes è uscita con un nuovo liquido un liquido alla fragola sapete benissimo che la fragola mi piace tanto mi piace tantissimo la rip vapes quindi ero troppo troppo curioso ho visto che erano usciti con questo liquido e quindi ho fatto ripeto un'altra volta la cazzata enorme di ordinarlo dagli stati uniti ma niente ormai andata di soldi ne buttiamo tanti io personalmente ne butto troppi comunque parliamo del liquido ragazzi sono veramente veramente carico all'olfatto si sente questa sensazione di fragola questa percezione di fragola molto 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 matura ragazzi non è una fragola con quella sfumatura acidula sapete le fragole quando le assaggiate se non sono troppo mature hanno quel quel sentore acidulo mentre quando una fragola è estremamente matura è molto 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 dolce qui all'olfatto si sente fragola matura veramente tanto e si percepisce un odore particolare quasi amarossi voi direte non si può sentire l'odore di amaro e avete ragione forse sono influenzato dalla descrizione perché sapete benissimo che la creme brulee non è nient'altro che questa crema sulla quale viene messo dello zucchero che poi viene bruciato sul col cannello quindi da questa sensazione questo contrasto dolce amaro qui io all'olfatto un pochino ce lo sento niente lo sto provando sul gun l'ho dovuto completamente rigenerare perché stavo provando delle resistenze leggermente più alte per non massacrare troppo l'aroma con il calore però non andavano bene ragazzi perché il liquido era un po frenato era tenuto veramente con le briglie non riusciva a percepire tanto gli aromi perché ci sono ragazzi dei liquidi che vanno scaldati di più dei liquidi che vanno scaldati di meno però questo dovete farlo voi siete voi che dovete capire come va diciamo rigenerato l'atomizzatore in base al liquido che state svapando quindi dovete fare prove su prove su prove io mi ero accorto che con resistenze bass e resistenze abbastanza alte questo liquido non dava il meglio di sé quindi ho completamente rigenerato il mio fedelissimo gun non lo abbandono più è sempre con me lo adoro non so se avete visto il video nel quale ho recensito però scusate io adoro questo atomizzatore sono completamente innamorato di questo atomizzatore ma mi sto dilungando come al solito troppo prova di sbapo di vapore ne fa tantissimo dovrebbe essere un 80 20 scusate provo a vedere se c'è scritto non mi sembra comunque tendenzialmente sono degli 80 20 75 25 questi non so se avete notato hanno completamente cambiato diciamo l'etichetta mi piaceva anche l'altra sinceramente a questo è un po più appariscente ma parliamo del liquido fragola questa fragola estremamente matura con dietro questo sentore cremoso probabilmente dato dalla crema catalana e si percepisce un pochino anche proprio lo zucchero probabilmente uno zucchero integrale uno zucchero di canna il liquido sapete cosa mi viene da dire è rotondo c'è un liquido veramente armonioso c'è veramente veramente ben fatto c'è questa fragola c'è questa crema questo sentore zuccherino mi piace mi piace veramente tanto ovviamente è un liquido dolce scusate nel frattempo da un'altra trippatina è molto molto dolce immaginiamo comunque fragola matura crema catalana lo zucchero che va sopra la catalana facciamoci un'altra bella trippatina così lo sentiamo appieno però come vi stavo dicendo sinceramente secondo me questo è un liquido che va spinto come resistenza va spinto va spinto molto perché prima non percepivo tante sfumature sentivo questa fragola blanda non mi arrivava tanto la cremosità era un po tenuto a briglia diciamo tenuto a freno con una resistenza molto alta io qui ho fatto 6 spire d'acciaio 316 050 su punta da 3 è uscita fuori una resistenza da 0.13 ohm è buono ragazzi fragola ripeto questa fragola però poi è spezzata subito all'impatto e vi arriva la fragola poi è spezzata dalla rotondità dalla cremosità di questa crema dovrebbe esserci credo anche della vaniglia non è fastidiosa sapete che a me comunque le castor delle vaniglie troppo troppo spinte non mi fanno impazzire qui non è assolutamente aggressiva anzi rende ancora più armonioso ancora più rotondo e niente l'aggettivo che mi viene per descrivere questo liquido è rotondo non lo so perché sapete che ogni tanto mi parte così in sfarfuglio secondo me è un liquido rotondo sulla fragola hanno fatto veramente veramente un ottimo lavoro è una fragola veramente veramente ben fatta non mi sembra chimica veramente ci percepisco proprio il sentore di fragola matura ma matura quasi al limite ragazzi cioè veramente saranno una mia sensazione ma mi sembra questa fragola al limite della maturità cioè quasi arrivata completa maturazione un passo prima di quasi di non di marcire però al limite sapete poi la fragola diventa proprio da di farmaco quando ormai andata è sfatta qui siamo proprio al limite siamo alla piena estrema maturazione della fragola bilanciata da questa rotondità della crema io non l'ho provato sul tank l'ho provato solo in dripping secondo me sul tank rischia un po di perdere di di ammazzare perché proprio resistenze alte già non lo sentivo magari il tank non ha le stesse caratteristiche del dripper però non lo so mi riservo di provarlo anche sul tank il liquido mi piace mi piace veramente tanto poi ero stra curioso ho pagato lo scotto della mia curiosità però ragazzi l'ho provato l'ho provato probabilmente per primo in italia non che questo sia un vanto però anzi sono uno scemo come al solito perché mi faccio prendere dalla scimmia però il liquido mi piace quando avrete occasione di provarlo provatelo io credo che probabilmente a breve arriverà anche in italia fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate perché sapete tantissimo che ci tengo ultima svapatina anzi svapatona con questo gun e un abbraccione